Ciao a tutti, Dreamlike Murbidal, benvenuto a un nuovo episodio di The Sims Medieval, seconda stagione dedicata a nobili e pirati. La volta scorsa abbiamo cominciato una nuova missione e la nostra Frida ha ricevuto da una spadaia una spada ciofecca, praticamente, e infatti ha perso in un combattimento contro una sua guardia e adesso deve affrontare la spadaia riguardo alla spada rotta. Questa pessima lavorazione non sarà accettabile a sacre rovine finché io sarò responsabile. Frida, da quando è che ti comporti così, scusa? Vabbè, comunque, lasciando stare questa cosa, adesso si sta lavando perché la regina deve essere sempre pulita in ordine, soprattutto quando deve andare ad affrontare le questioni, sì, riguardanti il regno, riguardanti le spade nella fattispecie, andiamo da questa edit, edite, vabbè, edit, affronta riguardo alla spada rotta che non so nemmeno dov'è la tipa, a dire il vero. Comunque mi fa piacere che, oh salve, dovresti farti un bagno anziché preparare la vasca per me che io l'ho appena fatto. Vabbè, sono contenta che vi sia piaciuta l'idea di reinserire Erda, però sotto forma di pappagallo, che è l'unico modo per avere Erda. E siete d'accordo anche con me, ho visto sul fatto che il pappagallo le dona, cioè in The Sims 2, vi ricordate, era bisbetica, era quella che rispondeva sempre male, sì perché poteva parlare con Frida, dato che Frida era una strega e lei è il suo famiglio. In The Sims 4 purtroppo si sono separate, tre virgolette, non possono più leggersi nella mente, però in The Sims 2 era una bella bisbetica, per cui il pappagallo le dona a pennello. Andiamo da questa tizia, che non si sa dov'è, probabilmente in piazza, esatto. Ma ti rendi conto di cosa mi hai dato? Era una spada terribile, ho perso contro un nome, guarda ci ho fatto una figura! E lei risponde, non è colpa mia, i materiali di qualità scanaseggiano e il consorzio della gilda di Tredoni ha fissato prezzi oltreggiosi. Ho dovuto usare una fusione di grezzogno, che è fragile, al posto dell'argento vero. Vabbè, questo un pochino ti giustifica, perché anche a noi stanno sulle scatole i... 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 come si chiamano? La gilda di Tredoni, i nobili della gilda, sì. Ho una mezza idea di spedirti alla gogna per il tuo inganno, Edith, ma... ma perché non è colpa sua? Però si, poteva evitare. Ne dovrei parlare con Ruffino. Non sarebbe vantaggioso per il consorzio della gilda perdere affari a causa dei prezzi, qualcosa deve influenzare il suo comportamento. Ah, per cui paga lei? Vabbè. Ok, lasciamo stare. Quindi deve parlare con Ruffino del comportamento della gilda. Chissà che... se ha qualcosa a che fare con il conflitto fra mercanti e pirati, sicuramente. Parla del comportamento della gilda di Tredoni. Edith, è divertita? Addirittura va che ti sta per spedire alla gogna, eh? Altro che divertita. Voglio vedere quanto ti diverti a prendere pomodori in faccia. Eh sì, ogni volta andare su e giù è un tormento. Vabbè. Andiamo dal nostro consigliere reale e vediamo che può dirci lui. Ah, ci segue. Ah no, è Meldina. Va bene. Ma il consigliere... dov'è? È di sopra. Sì, è di sopra. Carina questa sala, dovrei sfruttarla un po' di più. E tu, Robaldo, smettila di parlare che devo parlare io adesso con... Celestino? Che c'entra Celestino? Ma... Non ho capito. Vabbè. Ruffino. È questo qua magro, Ruffino. Devo ricordarmelo. Ma senti, qua girano spade e ciuffache. Cosa dobbiamo fare? Cioè, il consorzio di Tredoni ha fissato prezzi troppo alti. La Gilda ha aumentato i prezzi, sostenendo che è colpa del conflitto con i pirati. Ho appena ricevuto una lettera dal consorzio della Gilda e dal Tribunale dei Pirati riguardo alla situazione. È stato chiesto a Sacre Rovine di organizzare un vertice in modo che la Gilda e i pirati possano firmare un trattato di pace in territorio neutrale. Neutrale? Molto bene. Sarà una buona occasione, dice Freda, per aumentare la nostra influenza sulle flotte di Arbyville e le Gilda di Tredoni. Rispondi che Sacre Rovine sarà onorata di fare da miedettrice per il trattato. Rifletterà sul modo migliore di preparare tutto per i nostri ospiti. Una situazione tesa come questa può essere decisa o rovinata da minuscoli dettagli. Va bene. Io direi che... Subito, mia signora. Sì, qua abbiamo un bel po' di cose da decidere. Intanto la mando a dormire. Così ci vediamo queste cose per bene. Va bene, puoi andare. Vediamo. Avremo bisogno di cibo, musica e stringenti misure di sicurezza. Se avremo un minimo di fortuna, credo che oggi troveremo dei musicisti erranti al cancello d'ingresso. Quali disposizioni devo dare affinché i nostri ospiti si sentano i più benvenuti? Sì, beh, oggi nel senso di più tardi, perché adesso è mezzanotte passata. Stanno dormendo adesso i musicisti. Allora, che genere di cibo dovrà essere preparato? Poi discuti delle misure di sicurezza contenente guicciardi e richiedi una canzone da ogni musicista al cancello d'ingresso. Bene, abbiamo un po' di cose da fare per domani. Per cui, che genere di cibo? Frutta fresca o antipasti da buon gustai? Io direi antipasti da buon gustai. Non badiamo a spese. Ai nostri ospiti verranno offerti i migliori cibi di sacre rovine. Certo. Per cui dobbiamo procurarci tre porzioni di carne di cinghiale e tre di formaggio. Ah, bene. Cinghiale possiamo andare a cacciarlo. Essendo la regina, Frida può andare a cacciare nel bosco. Poi, discuti... Vabbè, sì, l'abbiamo già visto. Va bene, allora ci vediamo quando si sveglia. Io odio i sogni in The Sims Medieval. Il tuo sogno è iniziato nella taverna mentre stavi bevendo qualcosa. Hai chiesto della musica per aglietare la serata e stranamente sono apparsi due famosi bardi che hanno iniziato a cantare simultaneamente. Vabbè, dovrà vedere dei musicisti per cui ovvio che sogni i bardi. Uno, il cantastorie Andy Highland, ha narrato una storia licenziosa e comicamente ironica di lussuria sfrenata. L'altro, il cantore Bicail Maltin, ha recitato con voce rauca una ballata di avventure piratesche. Entrambi hanno rifiutato di smettere. Dovresti scegliere una delle due canzoni. Allora, le avventure piratesche sono molto adatte a Frida, ma soprattutto non scelgo mai quella sulla storia d'amore licenziosa perché se mi va male, poi Frida avrà un stato morale negativo finché non bacerà qualcuno. Per cui questa è la peggio se va male, ce l'ha per un giorno e basta. Per cui, sì, ascoltiamoci la ballata di avventure piratesche. La canzone avventurosa era allegra, ma sembrava una cozzaglia di varie storie famose. Forse Maltin aveva bevuto un po' troppo. Non importa, la canzone era stimolante e dava la carica. Hai continuato a fischiettarla per giorni. Oh, meno male, abbiamo ricevuto lo stato morale. Bella melodia in testa. Molto bene. Adesso puoi anche svegliarti perché tanto non hai più sonno. Lei si sveglia sempre con le galline. Oh, Gwendalina. Tu che ti sei svegliata, preparami qualcosa, per favore. Chiamo per avere cibo. Gwendalina, finalmente si è lavata la tizia, eh. Era proprio l'ora. Sì, la di Frida, bla bla bla. Dov'è? Ah, è andata di sopra. Bene, molto bene. Ne approfitteremo per usufruire di questa saletta che è molto bella. Poi, le librerie sono bellissime. Mi piace l'arredamento che ho sbloccato, davvero tanto. Siediti intanto. Cos'è sta cosa? Stufato di cervo. Ah, però. Ah, ma lo stai preparando adesso? Non dirmi con Bunk, ti prego. Ah, santo cielo. Sì, mi sa che è un bug. È questo che sta preparando in realtà. No, non è quello. Stufato di cinghiale. Bene, prendi una ciotola. Ne ha preparato una porzione per un esercito, in pratica. Se chiamo l'unità familiare a tavola, non so che unità familiare arriva, sinceramente. Però vabbè. Che spreco di cibo però, Gwendalina. Va bene, mangia, tesoro. Oh, sì, servitevi tutti. Molto bene. Li nota la consorte ed Elisa è l'allevatrice. Servitevi tutti quanti. La consorte di chi? Non so, forse di Capitano Uncino. Ecco un altro bug bello. Fantastico. Finito? Sì, dai che è finito. Allora, alzati perché dobbiamo andare a procurarci tre porzioni di carne di cinghiale e tre di formaggio. La carne di cinghiale possiamo tranquillamente andare alla foresta. Per cui visuali per la foresta. Caccia. Forse è meglio, dato che, proviamo ad aumentarle un po' la concentrazione. Così ha più probabilità di successo. E poi controllati, non serve che ti sistemi per andare a caccia. Sistema, ti dai. Comodamente al fuoco, bella melodia in testa, buon riposo, pasto meraviglioso. Ma perché vengono dentro a far pipì mentre ce l'è? Bene, adesso abbiamo anche attraente. Sì, certo, sei sempre la più figa del regno. Specchio, specchio. Chi è la più bella del reame? Sei tu, ovviamente, caccia, no? Abbiamo la stessa probabilità. Allora, andiamo a caccia. E perché stai andando qua? Scusa. Vai a caccia, dai. Ma ci vai così a caccia? Non ti cambi? Vabbè, non ho parole. Vediamo, allora, se riesce a cacciare della carne di cinghiale. Almeno un po', perché, voglio dire, è molto costosa. Comprarla al villaggio sarebbe un discorso. Spendio di fortuna. A quanto pare, oggi le creature della foresta non vogliono rinunciare alla loro gustosa carne per il bene del regno. Che egoiste. Riproviamoci, andiamo. Non c'è nulla che ci ferma. Oh, sono arrivate le responsabilità quotidiane. Promulgo, ne ditto. Lo odio. Chiedi a due cittadini come si vive a sacre rovine. Sì, non c'è problema. Dai, su, forza. Cacciami qualcosa, Frida. È la tua prima caccia. Frida, inseguì, ho ucciso un cervo di foresta. Dopo una veloce operazione di pulizia, si allontanò con tre pezzi di ottima carne di cervo. Ma a noi la carne di cervo non importa. Però, dato che ha un ottimo prezzo, praticamente costano 40 luna, potremmo scambiarla al negozio con un po' di carne di cinghiale. Andiamo qua, quindi. Vai ai negozi dei mercanti estranei alla gilda, ovviamente. Ah, e poi possiamo anche incontrare questi due tizi. Bardo e musicista di corte. Vediamo, vediamo, vediamo. Non mi dispiacciono. No, vabbè, dai, potrebbe essere migliore questo Lucan. Lucan il musicista di corte. Si stanno già sfidando. Faccia a faccia. E Sterling il bardo da battaglia. Sono queste le cose che adoro di The Sims Medieval. È così stupido a volte. Ma proprio parecchio. Oh, santo cielo, uno più stonato dell'altro. Ah, bene, uno ci ha rinunciato. No, smette a ballare. Ha detto, va bene, Lucan. Tu sei più bravo di me, la tua musica mi fa venire voglia di ballare. Per favore. Oh, santo cielo. Frida, ci sei? Oh, è ancora lì. Dai, tesoro, che se continuiamo di questo passo ci arriviamo tra un anno a organizzare questo vertice. Però siamo già a livello oro del rendimento missione. Parlano di sirene questi tizi. Va bene, dai, non ce ne frega. Presto Frida, ancora. Ma siete tonti parecchio. Oh, questo sembra smeraldo. Invece no, è Stefano l'apprendista. Il figlio di Agata, per chi segue anche Super Frida. Allora, cibo. Andiamo sulla carne più costosa. Vuoi vedere che non hanno il cinghiale? Dilettanti. No, infatti hanno solo carne di cervo. Beh, possiamo procurarci del formaggio. Non ho idea di quanti. Tre, mi pare. Sì, compro articoli. E ci vendiamo la carne di cervo. Vendi articoli. Molto bene. Sicuri che non abbiamo il cinghiale? Cervo e coniglio. Niente. Cinghiale proprio non ci piace. Va bene. Allora ci toccherà andare, temo, al negozio del villaggio. Paga gli alti prezzi della gilda. Peccato. Però il formaggio erano tre porzioni, sì, di cinghiale e tre di formaggio. Molto bene. Cibo. Prezzo più costoso? 97. Qual cervo 52? Alla faccia. No, ce ne sono solo due. Porca miseria. Che sfiga. Vabbè, questi dobbiamo comprarli per forza. E mi sa che dobbiamo andare a cacciare. Però prima di fare questa cosa, io ascolterei questi tizi e poi andrei a fare le mansioni quotidiane. Per cui va bene, dato che ci siamo incontrati ragazzi, cos'è che dobbiamo fare? Richiede una canzone ed ogni musicista il cancello d'ingresso. Sono questi, giusto? Queste sono le misure di sicurezza col tenente Guicciardi. Va bene. Allora. Amichevole? No. Monarca? No. Non posso richiedere un'esibizione? Richiede una canzone. Studierò il loro stile e deciderò chi preferisco al vertice di pace. Questi lottano in ogni caso. Ah, chiedi una canzone. Ragazzi, scusate, ma io sarei qua per... Siete arrivati voi per i provini, vero? Giusto? Ma mia signora, non posso suonare perché questo qua mi... Bello comunque questo liuto. Con l'occhio del guardiano. Mi piace, già mi piace. Chiedi una canzone. Ti sposti? No, 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 non guarda... Chiedi una canzone. Sono più rintronati del previsto questi due. Ragazzi, date un po' di corda alla regina, per favore. Grazie. Date un po' di corda. Ah, ah, cogliuto. Senti, ti pago, però per favore suona. Grazie. Fammi sentire come suoni. Ecco, sì, adesso balla. Non sembra affatto un giudice di X-Factor. X-Factor Medieval. Che fraseggio complesso, che melodie eleganti. Sì, come se tu ci capissi qualcosa, Frida. Però la chitarra con l'occhio del guardiano mi piace. Per cui un punto per Lucan. L'altro dove è finito? Ah, sta... La prestatrice di denaro? Comunque ci sono dei personaggi nuovi che nella... Nella stagione precedente non c'erano. E penso che dipenda dal fatto... Tipo la figura di prestatrice di denaro. Penso che dipenda dal fatto che stiamo giocando con l'espansione di nobili e pirati. Anche se era già installata, alcuni personaggi, a quanto pare, compaiono a seconda di quello che si sta usando. Sì, però sbrigati Lucan, perché qua la regina mi muore di fame e poi deve anche andare a lavorare. Oh, bravo, grazie. Adesso tu riesci a suonare, per favore, Sterling. Che tra l'altro, Sterling, per chi ha letto il mio blog ai tempi, ma anche recentemente, era uno dei dieci fuchi di Frida quando ho fatto in The Sims 2 la sfida della peregina ed era il mio fucco preferito. Per cui hanno entrambi ottime qualità. Musicali non so. Però sì, questo suona meglio. E anche il diuto, non la chitarra. Beh, però, se mi fai... Ahà, che testo mordace, che ritornello ribaldo. Ma non sta neanche cantando. Benissimo, purtroppo mi serve un solo musicista. Chi sarà mai? Vabbè, scegli un musicista, va bene. Tu non vorrei che suonassi le trombe anche, eh? Solo il liuto, mi raccomando. Tu non sei particolarmente bravo, ma ti chiami come quello che era il mio fucco preferito in The Sims 2. Quello che mi ha dato i figli più belli. Quelli a cui ero più affezionata. E beh, anche lui era tanta roba. Di certo tu non gli somigli affatto, però... Sì, bene, grazie. Chi sceglieremo mai? Basta, Frida. Rida, finita la musica. Non so, aspettiamo un attimo. Vediamo se... Fare queste cose, mangiare e poi andare a procurarci. Sì, dai, facciamo prima queste cose. Per cui dobbiamo chiedere come si vive a Sacre Rubine. Oh, a lei possiamo chiederlo, alla nostra servitrice con cui abbiamo una certa confidenza, no? Allora, Guendalina, dimmi, come si vive qua? Secondo te? È da poco che si sono arrivata e non so se è migliorato qualcosa dal mio arrivo. E lei? Mo, mo, non saprei. Ma come non sai? Però uno l'abbiamo chiesto, lei niente, non risponde, si rifiuta. Allora, amichevole, impara a conoscere. E anche con lui, impara a conoscere, perché dobbiamo, credo... Ma perché sono tutti trombettisti in questo regno? Volevo un liutaio, no? Un bardo mi serviva, non trombettisti, vabbè. Oh, ho capito. L'apprendista cameriera? Vabbè. Te, Meldina, tu che sei zitella. Impariamo a conoscerti, perché se sei zitella vuol dire che qualcosa non va nel regno. O in te, forse. Però vabbè. Discuti dello stato, del regno, quindi. Chiedi delle preferenze musicali, così capiamo a cosa piace ai nostri cittadini. Però, voglio dire, se sei ben giro vestita così... Vabbè che mostri la mercanzia, brava, brava. È vile. Forse per quello che non è sposata. Chiedi della salute. Monarca. Buffo. Fai un'imitazione. Cerchiamo sì di essere simpatiche, ma senza renderci giullari. Chi è che ha questa bella voce? È lui. Ah, lo sto rivalutando. Impara a conoscere di nuovo. La religione non gliela chiedo, perché finché non abbiamo preti, chiaramente non possiamo convertire nessuno. Quindi sono tutti agnostici. Me ne sono persa. Vabbè, possiamo rifarlo. Fai un'imitazione. Oh, chiedi come si vive a sacre rovine. Frida con tutte le donne del regno. Dimmi qual è il tuo problema, perché non trovi un marito e noi ce ne occuperemo, va bene? Non devi preoccuparti. Vedi quei detenziali a fianco? Beh, uno mi servirà per suonare, ma l'altro te lo puoi anche sposare. Per favore, Gwendalina. Mi sta rovinando l'episodio, vai via. Ma, ma ti diverti pure? Ma, ma che sei pazzesca. Ma io non so. Dai, fai quest'ultima faccia. Sì, benissimo, perfetto. Ecco. Io l'abbiamo chiesto. Per cui adesso andiamo a palazzo, dove ci prenderemo qualcosa da mangiare. Però, seguendo a Gwendalina lì, mi sa che non è rimasto molto. A meno che non siano ancora buoni i piatti che c'erano qui. Se non se li sono già pappati tutti. Questo è variato. Non può prepararsi del cibo? Perché? Scusa? Aggiungi un ciocco? Questa mi è nuova. Cos'è questo nuovo bug? Sì che era abbastanza stabile come gioco fino alla stagione precedente. Ah, qui si può preparare del cibo. Sopra no. Lei non può? Boh, vabbè. Prepara del cibo. Ci facciamo? No, la zuppa di cinghiale? Dobbiamo tenerci il cinghiale. Zuppa di piccione. O salmone. Salmone. Che dà un ottimo stato umorale. Forse era meglio se sceglievo la frutta. Però sicuramente mi avrebbe chiesto un frutto per il quale avrei dovuto andare come minimo a commerciare via mare in posti lontani e dispersi. Insomma, fino tipo alle Hawaii simiche. Alle isole Tiki, Tiki, Tiki. Com'è che si chiamavano in The Sims 2? Isole Tiki. Oh, salve. Gary Fredo è il principe dei mercanti di Tredoni. Non hai tanto la faccia da principe? Con questa espressione da sveglio. Vabbè. Promulga un editto. Perfetto. Per cui propoglio un editto. Sbrigiamo questa cosa e poi andiamo a caccia, direi. Allora, si investa nelle gemme di Tredoni per consentire al regno un risparmio alla lunga, oppure una riduzione dei dazzi sui beni importati a sacre rovine. Con questo ci giochiamo la fedeltà di Craftol, per cui farei una riduzione dei dazzi sui beni importati a sacre rovine. Proponiamo. Rileva il supporto all'editto. E poi andiamo a votare. La corona sosterrà la famiglia di qualsiasi costruttore infortunato sul lavoro finché questi non potranno riprendere l'attività. Mi piace, come hai detto. Questo invece che ha proposto Frida non lo vota nessuno. Per cui io direi che la facciamo votare, quell'editto là. Che comunque non è male, come hai detto. Non è male. Per cui, cos'era questo che ci costava Tredoni? Dispone una tassa aggiuntiva sulla vendita di oggetti realizzati in un territorio diverso. Ma perché? Vabbè, vota. Perfetto. Editto approvato. Per cui adesso andiamo di nuovo a caccia. Sì, ha abbastanza energia. Per cui... Ops, foresta. Caccia. E stavolta deciditi a prendere del cinghiale perché siamo messi male, eh. Ah, la di Frida stava camminando attraverso la foresta quando, guardando di lato, vede una piccola diavoletta rosa. Una diavoletta? Ferita. Che ronzava freneticamente in un cerchio polveroso con un'ana bloccata. Ma perché c'è una diavoletta? Rosa, tra l'altro. Oh, santo cielo. Povera piccola diavoletta. Aveva solo bisogno di un piccolo aiuto per volare via. Questa, comunque, è la prima volta che la vedo. Forse se Frida fosse stata gentile, la creaturina l'avrebbe ricompensata con qualcosa di speciale. Sempre che lei avesse fatto attenzione a non ferire il suo corpicino. Ora, la di Frida aveva un solo scopo nella vita. Catturare la piccola peste rosa. Doveva afferrarla alla svelta prima che fuggisse. I diavoletti vivi valevano una piccola fortuna. Proviamo a catturarla. Oh no, la di Frida si avvicinò di soppiato alla diavoletta parlando con tono gentile per infondere un falso senso di sicurezza nel piccolo essere brillante. Shhh, va tutto bene. Sono qui per aiutarti, mentì. Ma i diavoletti non erano stupidi. Io sì, invece. Lei fiutò subito la trappola e lanciò della polvere di diavoletto sul viso sorpreso di Frida. Soffocando e tossendo, la di Frida saltò e si dimenò per diradare la nuvola di polvere, ma la piccola creatura, alata, scattava e saettava tutto intorno, pungendo e mordendo furiosamente. Stupida diavoletta, urlò di frustrazione Frida, mentre la creatura filava via. Sparisci, hai ricevuto 25 pie, ma lo stato morale è ferita di diavoletto. Carne di cervo. Ti prego, cerchiamo di farlo un'altra volta. Se no, vabbè, in teoria tornando domani al mercato dovrebbe esserci dell'altra carne di cervo. Però spero che domani non sia troppo tardi, perché se attendiamo troppo a fare queste cose, poi ci compare uno stato morale negativo, perché stiamo trascurando la missione. Dobbiamo anche scegliere un musicista e discutere delle misure di sicurezza con Tenente Guicciardi. Che è? Tenente Guicciardi, dove sei? Non vedo. Non vedo dov'è questo Tenente Guicciardi. Forse se... Ah, sì, spostandomi. Allora, Tenente Guicciardi è a palazzo, a quanto pare. Molto bene, per cui poi torniamo a palazzo, così Frida può andare a dormire. Ti prego, completami questa cosa. Carne di cervo. Niente, abbiamo un sacco di carne di cervo, però, che può essere mangiata ed ha uno stato morale molto positivo. Oppure venduta, così possiamo permetterci la carne di cinghiale che costa uno sproposito. Discuti delle misure di sicurezza. Cosa? Ecco, dovrebbe esserci cibo a sufficienza. Ma perché, scusa? A quanto pare, basta anche il cervo. Ora portiamo tutta Guendalina alla servitrice, così potrà preparare. Ah, no! Frida colse di sorpresa un ignaro cinghiale che si stava beverando. Con un colpo perfetto gli tagliò la testa che crollò nell'acqua con una fontana di sangue. Dai, però. Frida fondò le mani nella carcassa per procurarsi due pezzi di ottima carne di cinghiale. Certo, con le unghie. Te la sei procurata. Vabbè. No comment. Parliamo con Tenente Guicciardi. Possiamo occuparci della sicurezza in due modi, signora. Mia signora, è possibile dare... Sfare... Fare il sfaggio di forza collocando le guardie in posizioni assai visibili. Oppure optare per la discrezione facendogli indossare dei travestimenti. Cosa preferite, vostra maestà? Beh, io sinceramente opterei per... I travestimenti. Voglio proprio vedere da cosa si travestono. Da giullari? Vabbè. Dobbiamo dare il cibo a Guedalina. Per cui dai il cibo. Dove sei, Frida? Ma soprattutto, dov'è Guedalina? Ma perché sei qua, Guedalina? Dobbiamo farci tutta questa strada. Sta anche crollando, Frida. Vabbè. Crollerasse proprio. Non so cosa dirvi. Guedalina, non ci sei mai. Intanto prendi tutto quello che ho procurato. Qua c'è del cinghiale e del formaggio. Mi raccomando, sì, mia signora. Fare in modo che sia pronto un delizioso assortimento per l'arrivo degli ospiti. Ora dobbiamo scegliere un musicista. Vediamo se ci danno un indizio su di loro. Niente. Continuano a sfidarsi. No, adesso sono diventati amici. Spettegolano. Bene, dai, è nata un'amicizia. Mi fa piacere. Per cui, vabbè, io... Sentiamoli. Ma perché suonano i contemporanei? Non capirò mai questa cosa. No, lui si arrende. Ah, per cui lì ho capito che tanto sarà lui quello scelto. Come abiti poi... Vabbè, questo è proprio da giullare in un certo senso. Dai, tu fai più bella figura. Assumi come musicista. Questo suona sempre lagne. Invece è un po' più allegro come musicista. Dai. Scegliamo te. Certo, mia signora. Basta con sta lagna, Sterling. Avete un gusto impeccabile, vostra maestà. Faremo in modo che l'evento sia memorabile. Va bene, grazie. E adesso dobbiamo solo capire che misure di sicurezza vanno prese. Sfoggio di forza. Le guardie in bella vista creano un ambiente di massima sicurezza. Oppure sicurezza segreta. Misure di sicurezza poco visibili mantengono basse le tensioni. Dato che l'atmosfera è tesa, io farei sì. Questa qua. Per cui, ma andiamo a casa Frida. Sì, vostra onestà. Darò a disposizione, non so, gliel'ha detto con la mente, probabilmente. Perché darò a disposizione finché vengono usati i traversamenti adeguatamente discreti. Dopo aver provveduto alla sicurezza dell'evento, voglio fare in modo che i nostri ospiti si sentano, come dire, a proprio agio. Una visita alla piazza cittadina è sempre utile quando si cercano grandi talenti. Ah, dobbiamo pure andare in piazza adesso. Ma penso che lo faremo la prossima volta, perché questo episodio è durato più che sufficiente. Per cui, io direi che ci fermiamo qua con questo episodio. Spero che vi sia piaciuto. Abbiamo visto la nostra regina andare per la prima volta a caccia. Per cui, sì, è stato interessante vederla andare a caccia. E si è procurata il cibo che doveva. Per cui, spero che l'episodio vi sia piaciuto. Se è così, mettete mi piace, commentate, che a me fa sempre molto piacere. E iscrivetevi se siete nuovi per non perdervi nessun episodio di questa nuova serie. Attivate anche la campanella, mi raccomando, così vi arriva una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Inoltre, vi consiglio, se non l'avete ancora fatto, di andare in descrizione, dove potete trovare tutti i link a tutte le serie che sto facendo attualmente. Non solo con i Sims. Anche il link al blog dedicato ai Sims, di cui vi parlavo prima. Per cui, se volete vedere le altre avventure di Frida, soprattutto in The Sims 2, lei è un personaggio che ho creato in The Sims 2, andate lì. Potete leggere la Queen Bee Challenge. Per cui, sì, lei deriva da lì. I The Origin trovate sempre in descrizione, per cui teniamoci in contatto. E anche su Facebook, per cui trovate il link alla pagina Facebook. Ma anche il link ai canali dei miei amici youtubers, a quali vi invito a iscrivervi. Per cui, sì, attivate la campanella a tutti. Bene, spero che davvero questa serie vi stia piacendo. Grazie mille a tutti per l'attenzione. Ci vediamo alla prossima e vi auguro una stupenda, stupenda giornata. Ciao a tutti!